signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale anche questa settimana torniamo a parlare della grande ruota l'ambientazione planare di dnd per utilizzarla come esempio pratico di war building abbiamo cominciato l'anno parlando del sistema magico e di come poter inserire elementi fantastici all'interno della vostra ambientazione ora la magia sicuramente è un elemento cardinale preponderante all'interno di dungeon and dragon il fatto però è che la magia non è qualcosa di particolarmente caratteristico di dungeon and dragon anzi il sistema magico di per sé è stato preso dai racconti della terra morente di vans ne abbiamo già parlato in vecchio video quando parlavamo appunto della magia in dnd e anche l'uso e proprio gli incantesimi stessi sono stati volutamente tenuti su il più generico possibile per adattarsi fondamentalmente a qualsiasi tipo di storia fantasy voi vogliate raccontare quindi per quanto la magia sia un elemento fantastico non è qualcosa di realmente caratteristico c'è però qualcos'altro che in realtà anche lì ha avuto origini esterne come praticamente tutto in dnd ma è stato sviluppato fino a diventare qualcosa di effettivamente trovabile solo in dungeon and dragon e intrinseco nell'ambientazione tale da renderlo inseparabile dal resto sto ovviamente parlando della meccanica planare e ne abbiamo già visto un bel po' in questi video per ora però ci siamo limitati a quei piani che sono in un modo o nell'altro normali questa settimana invece ci spostiamo ancora oltre arriviamo finalmente ai limiti estremi della grande ruota e andiamo a parlare dei posti veramente bizzarri del planescape questa settimana andiamo a parlare dei piani esterni prima di cominciare a parlare dei piani esterni cosa sono come funzionano bisogna per prima cosa introdurre un elemento cardinale del discorso i piani esterni sono pura follia forse è il caso che mi spieghi meglio se i piani interni sono in un modo o nell'altro regolati dalla fisica per quanto fisica fantastica i piani esterni sono per la loro stessa natura intrisi e governati dalle forze della morale e dell'ideologia lo abbiamo visto nel video di sigil di qualche settimana fa ve lo lascio qua su se dovete andarlo a recuperare per via di questa preponderanza della morale sopra la fisica i piani esterni hanno una natura molto più effimera e fondamentalmente sono organizzati e strutturati dalle quattro grandi forze morali dell'universo bene male legge caos nei piani esterni queste forze sono palpabili e vanno a influenzare non solo il comportamento delle persone ma la materia stessa dei piani vanno a influenzare anche il tempo atmosferico e il paesaggio proprio la struttura fisica dei piani stessi per dire molto semplicemente in un piano allineato al male non sarà abitato da persone malvagie ma anche i sassi per terra saranno malvagi ognuno dei piani esterni è dominato da una particolare combinazione e proporzione di allineamenti e ha un piano che gli si oppone dalla parte esterna dalla grande ruota ora in questo video non andremo a parlare dei piani esterni uno per uno è una cosa lunga farò un video probabilmente un paio di video il mese prossimo in questo video cominciamo a vedere cosa sono i piani e come funzionano appunto per quanto riguarda il sistema magico di dnd questa loro natura fortemente plasmabile dall'ideologia fa in modo che una creatura anche non estremamente potente ma fortemente radicalizzata in un allineamento possa reclamare una parte della materia planare intorno a sé e farla diventare per certi versi una vera e propria estensione di se stesso e della propria personalità questo è il motivo per cui nei piani esterni sono concentrati la maggior parte dei reami degli dèi un dio è talmente potente che può reclamare un'intera bolla di realtà all'interno di un piano esterno consideratelo una specie di vero e proprio semipiano indipendente al cui interno la materia risponde esclusivamente alla sua stessa volontà all'interno del suo reame divino un dio può far alzare e crollare le montagne far comparire intere città con tutti i loro abitanti dal nulla e fondamentalmente essere un dio la natura dei piani esterni però è così altamente plasmabile che anche creature meno potenti non fraintendete meno potenti per quanto riguarda creature immortali planari stiamo comunque parlando di livelli di potere esclusi dai mortali ma anche un esterno sicuramente non a livello di una divinità come un campione angelico un signore dell'abisso possono estendere la propria volontà su una zona normalmente non formando un piano ma influenzando proprio la regione e molto più lentamente farla rispondere alla propria personalità e plasmandola in base a quello che loro preferiscono questi reami minori sono normalmente collegati al resto del piano come le regioni e sono i domini dei vari signori planari non fatevi ingannare però dal concetto di minore e maggiore non indicano una reale quantità fisica anche perché i piani esterni sono per loro natura infiniti questo è un altro di quei concetti che porta rapidamente i mortali alla follia e che in realtà ho anche visto molti master nel mondo reale non riuscire ad afferrare correttamente quando si parla di un piano infinito non vuol dire che continuando a camminare dritti non si raggiungerà mai il bordo del piano il piano è infinito verso l'esterno quanto lo è verso l'interno questo vuol dire che se un signore planare reclama una parte del piano come suo dominio essendo una frazione di infinito la parte governata da quel signore planare sarà comunque a sua volta infinita ma anche solo se noi prendiamo due punti a caso all'interno nello stesso strato dello stesso piano la distanza tra quei due punti sarà infinita perché si trovano in due punti casuali di un segmento infinito questa è una delle cose veramente difficili da comprendere perché contraddice la realtà come noi la conosciamo e perché questo è follia potenzialmente quindi un gruppo di avventurieri che parta da una città su uno strato di un piano esterno e voglia arrivare a un'altra città sullo stesso strato dello stesso piano camminando in direzione della città non la raggiungerebbe mai perché la distanza che dovrebbe percorrere sarebbe infinita il paradosso di Achille la tartaruga mettetela così però noi sappiamo che questo no perché gli avventurieri si spostano nei piani e i planari si spostano attraverso gli strati europeani quindi come è possibile viaggiare per distanze infinite in un tempo però finito in questo caso la natura effimera dei piani esterni offre un vantaggio la realtà dei piani esterni è molto più porosa di quella dei piani interni e del piano materiale e sono attraversati da veri e propri cunicoli dimensionali quelli che sono chiamati i portali planari che permettono il viaggio da una parte all'altra molti di questi sono effettivamente il vero e proprio portare planare che vi state immaginando dei vortici di energia che quando ci si entra teletrasportano da una parte all'altra ce ne sono praticamente ovunque e sono molto utilizzati sia per gli spostamenti per i commerci ma in realtà non sono la maggioranza la maggioranza dei portali planari lavorano in maniera un attimo più sottile diciamo più integrata nel paesaggio in questo caso più che portali sarebbe il caso di definirli percorsi planari i più famosi sono i due grandi fiumi dei piani esterni l'ostige e l'oceano che attraversano rispettivamente tutti i piani allineati al male e tutti i piani allineati al bene diciamo che il nostro gruppo di avventurieri sia sulla loro ipotetica barca a viaggiare su uno di questi due fiumi dal loro punto di vista il viaggio dalla sorgente fino all'estuario durerebbe qualche settimana qualche mese e durante il percorso vedrebbero molto spesso cambiare il paesaggio intorno a loro come se stessero attraversando diverse regioni in realtà il fiume è una vera e propria contrazione dello spazio che crea un tunnel attraverso i piani un altro ipotetico osservatore che stesse sulla riva su uno degli strati planari probabilmente non vedrebbe neanche passare la barca degli avventurieri ma vedrebbe il fiume estendersi all'infinito da una parte e dall'altra e il fiume sarebbe per lui accessibile all'infinito da una parte e dall'altra anche se dal punto di vista degli avventurieri il fiume correrebbe dritto e sarebbe finito. Contrazioni planari del genere sono relativamente comune e molto spesso avvengono in zone concettualmente legate all'idea di passaggio attraversamento. Le due città planari di cui discutevamo prima potrebbero essere collegate da una strada. Ora la strada sarebbe comunque infinita perché lo spazio tra le due città sarebbe infinito ma per chi viaggiasse sulla strada invece il percorso sarebbe finito anche se poi in mente potrebbe avere degli effetti bizzarri per chi è abituato al piano materiale per esempio uscendo dalla prima città, voltandosi potrebbe vederla comunque molti chilometri dietro di lui e la prossima città al limite dell'orizzonte continuerebbe a camminare senza vedere mai la città sullo sfondo avvicinarsi per poi improvvisamente trovarsi davanti alle porte della città come se la città avesse zoomato in avanti. In realtà quella è l'uscita del percorso planare. Passaggi del genere sono comuni anche tra un piano esterno e l'altro o diversi strati dello stesso piano esterno magari un valico montano o l'ingresso di una grotta potrebbe in realtà portare in un altro piano o in un altro strato anche strutture più bizzarre magari una serie di scalini che sembra avvitarsi nel nulla quando se si fa tutti quando si arriva in cima in realtà ci si ritrova al livello del terreno ma nello strato superiore dello stesso piano e ovviamente qualunque porta, porticina, accesso di servizio e pertugio potrebbe in realtà essere uno degli infiniti portali che portano a Sigil la città delle porte che è al centro della grande ruota e per questo snodo del traffico planare da ogni dove. Come ho detto prima e come avete visto al titolo questa è solo la prima parte del discorso sui piani esterni. In realtà in questo video ho voluto discutere gli elementi comuni caratterizzanti e quelli che sono effettivamente importanti per il sistema magico. Adesso non ho ancora finito di iscriverli, probabilmente per il mese prossimo o per quello dopo farò uscire o un video o un altro paio perché c'è veramente molte cose da dire sui singoli piani. Sarà comunque qualcosa di molto stringato perché ogni piano meriterebbe un'intera serie di video per se stesso, ma diciamo che non voglio lasciare l'argomento sospeso per aria e magari potrebbe servire come video introduttiva. Dato che non ho ancora cominciato a lavorarci, nel frattempo se siete interessati a qualche aspetto particolare dei piani esterni scrivetemelo nei commenti, ovviamente scrivetemi anche eventuali domande, dubbi, perplessità. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale, iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master CAE, noi ci vediamo nel prossimo video.